Musica Benvenuti ad una nuova edizione del TV giornale di Telestense. Naturalmente il punto sulla pandemia da Covid, un bollettino l'ultimo che registra il boom di nuovi guariti, oltre 850, purtroppo però bisogna registrare ancora un numero abbastanza elevato di decessi, 8 anche se ripartiti su 5 giorni. E poi sentiremo quanto è importante fare la quarta dose soprattutto per tutelare le persone più fragili. Parleremo di siccità, di quello che provoca la siccità nella sacca di Goro, dove la moria di vongole è sempre più elevata, ma parleremo anche della colorazione anomala in questi giorni del mare sulla costa Emiliano-Romagnola, dovuta ad una micro alga che però insomma non porta danni ai bagnanti. E poi naturalmente la cronaca, l'economia e poi la spalla. Alla spalla faremo il punto con il direttore Fabio Lupo, i primi bilanci. Apriamo però appunto con la pandemia, con il boom di guariti da Covid-19. Purtroppo ci sono ancora 8 decessi, calano i nuovi positivi e anche cala il numero dei nuovi ricoveri in ospedale. Stesso trend in Regione Emilia-Romagna con i ricoveri stabili. Sentiamo. 868 nuovi guariti, 8 decessi, 2 nuovi ricoveri. Sono i numeri significativi del bollettino odierno relativo alla pandemia da Covid-19 a Ferrara e nella provincia estense. Nelle ultime 24 ore però si registra un ulteriore calo dei nuovi positivi, 170, numero dimezzato rispetto al bollettino precedente e individuati su un totale di 589 tamponi refertati. Ferrara piange però ancora 8 vittime, 4 nelle ultime 24 ore, 2 donne, una di 83 anni di Copparo e l'altra di 91 anni di Ferrara e di 6 uomini, rispettivamente di 78, 82, 84, 91, 92 e 98 anni, due residenti a Comacchio e poi a Vigarano, Tresignana, 100 e ancora a Ferrara, decessi distribuiti su 5 giorni. Rimane stabile invece il numero delle persone ricoverate negli ospedali ferraresi. Sono 50 i posti letto occupati a Sant'Anna di Ferrara-Racona, di cui uno in terapia intensiva. Per Covid positivo al Delta di Lago Santo ci sono ricoverate 58 persone, mentre a Santissima, annunziata di 100, sono 14 posti letto occupati. In Emilia-Romagna sono 3.889 i nuovi positivi al coronavirus, su 26.769 tamponi refertati. Stabili i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 48, 2 in più rispetto a 24 ore fa, mentre si registra un leggero calo per quanto concerne i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.804, 8 in meno rispetto a 24 ore fa. Nel bollettino regionale si registrano infine 41 decessi, una trentina dei quali relativi agli ultimi 8 giorni. La quarta vaccinazione è importante, soprattutto a tutela delle persone più fragili. A sostenerlo è l'epidemiologo dell'azienda USL di Ferrara, il dottor Mario Braga. Il professore sarà protagonista della prossima puntata del filo d'Ariana, però sentiamone proprio un'anteprima. Perché è necessaria questa quarta dose? Sostanzialmente per una serie di motivi. Il primo motivo è come ricordava lei, ci siamo trovati con una ripresa importante dell'epidemia. La nuova andata è stata molto più importante di quanto ci si aspettasse e questo sostanzialmente dovuto sia al fatto che l'ultima variante del Covid, la Omicron via 5, è molto più aggressiva rispetto alle precedenti e di fatto la riapertura totale delle attività sia ludiche che di lavoro. E quindi le occasioni di contagio sono aumentate enormemente. Dall'altra parte abbiamo visto anche per le esperienze precedenti che progressivamente la capacità di difesa legata o all'infezione o principalmente al vaccino tende a diminuire nel tempo. E a questo punto le terze dosi per chi ha fatto il booster o le seconde dosi per chi ha avuto solamente due iniezioni di vaccino sono state fatte nel periodo, diciamo, fine inverno, inizio estate. E quindi i 4-5 mesi di distanza dall'ultima occasione di difesa, di produzione di difesa immunitaria, sta cominciando a svanire. Ecco, però lei giustamente ha parlato di questa distanza ormai temporale dall'ultima dose, ma si parla soltanto di over 60 per la quarta dose. Perché appunto questa scelta e i giovani ne saranno esclusi? Al momento sì, al momento la scelta che ha fatto il governo italiano, ma come anche altri governi, per esempio in Germania, in Inghilterra, è quella di offrire la vaccinazione alle persone, alle comunità che hanno maggiore rischio di gravi conseguenze dall'infezione. Quindi i soggetti fragili dai 12 anni in su ai soggetti con più di 60 anni di età. Vedremo a settembre, con la ripresa anche del periodo di maggiore probabilità di comparsa di nuove varianti, se sarà necessario anche procedere con un'estensione della vaccinazione ad altre fasce di età. Per quello che riguarda la quarta dose, quanto è stimata la sua durata ed eventualmente potrebbe comunque essere d'aiuto per eventuali future varianti? Allora, sicuramente il vaccino attuale, che lo ricordo è ancora, è stato sviluppato con i ceppi iniziali del virus stesso, offre protezione non tanto contro l'infezione, ma ancora una protezione molto alta contro le forme più gravi dell'infezione e riduce di molto la probabilità di morte. Quindi è un vaccino che è tuttora efficace nei confronti anche di queste varianti che sono comparse recentemente ed è una protezione che dobbiamo garantire alle persone che hanno maggiore probabilità appunto di andare incontro a conseguenze gravi nel caso in cui dovessero contrarre la malattia. Dall'altra parte è vero che conosciamo ancora poco il funzionamento di questo virus, ma finora la capacità di difesa si è attenuata in tutte le condizioni, sia con una, due o tre dosi, sia nei confronti dell'infezione naturale. Ora la siccità e i danni provocati da siccità non migliorano la situazione nella sacca di Goro, il perdurare dell'ondata di caldo estremo e come dicevamo della grave siccità che sta affliggendo tutto il territorio rischia di peggiorare il fenomeno di anossia nella sacca, la mancanza di ossigeno cioè provocata dalla recente comparsa di vasti banchi di alghe che provoca appunto la moria di vongole. Le conseguenze sull'habitat lagunare e sul settore della molliscocultura sono gravi, spiegano i vertici di AGC, Cooperativa Lega Coppa, che con una lettera indirizzata alla Regione Emilia Romagna e alla Alleanza delle Cooperative Italiane e Nazionale chiedono l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale della Pesca e Acquacoltura. Il fenomeno della moria di vongole sia di taglia commerciale sia di novellame che sta già colpendo gran parte delle concessioni demaniali marittime con il perdurare delle alte temperature si estende alla totalità della sacca di Goro compromettendo l'attività di più di 1700 addetti del settore. Da qui la richiesta come dicevamo di interventi a supporto e a tutela delle imprese operanti nel comparto quali ad esempio appunto gli interventi, l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale della Pesca e appunto dell'acquacoltura. E sempre questo clima estremo provoca anche situazioni anomale come ad esempio la colorazione delle acque anomale appunto di alcuni tratti della costa emiliano-romagnola. Il fenomeno è causato dall'abbondante presenza di una micro alga del tutto innocua per i bagnanti come spiega Arpae. Vediamo. Macchie del mare con una colorazione tendente al rosso bruno. È il fenomeno segnalato in questi giorni in alcuni tratti di costa emiliano-romagnola compresi tra Pinarella e Giamarina. È un fenomeno che si è già verificato negli anni passati spiega in un comunicato Arpae riconducibile ad una fioritura micro algale che si manifesta per particolari situazioni che agiscono in modo sinergico. Condizioni meteomarine stabili, temperature elevate, forte irraggiamento solare e apporto di nutrienti. La micro alga che causa la colorazione delle acque è la fibrocapsa japonica assolutamente innocua per i bagnanti. Si tratta di un'alga microscopica presente da diversi anni in Adriatico. La prima segnalazione della sua presenza nelle acque marine italiane risale infatti al 1994 e da allora ricompare con una certa regolarità anche lungo il litorale emiliano-romagnolo, in particolare nella fascia centro-meridionale. Un fenomeno che in questi giorni ha riguardato anche le acque marchigiane nel tratto a ridosso di Senigallia in provincia di Ancona. La fioritura Bloom si presenta entro i 200-300 metri dalla Battigia perché questo tipo di fitoplancton predilige le acque a temperatura più elevata e si concentra e si addensa soprattutto nelle ore pomeridiane per effetto dei venti di scirocco a regime di brezza. L'intensità della fioritura non è uniforme in quanto in alcune zone raggiunge picchi di intensità tali da ridurre la trasparenza a pochi centimetri come ad esempio lungo il litorale tra Zadina e Cesenatico dove sono state riscontrate nei giorni scorsi alte concentrazioni algali. Spesso il fenomeno si manifesta a giorni alterni. Può capitare che al mattino l'acqua risulti limpido o appena velata dalla classica torbidità, poi verso mezzogiorno la torbidità aumenta e l'acqua comincia a colorarsi. Il vetto di grecale previsto in queste ore potrebbe aiutare a disperdere la biomassa microalgale e a portare alla scomparsa del fenomeno. Ora la cronaca potrebbe essere stato un malore oppure una caduta accidentale a causare la morte di una donna di 59 anni trovata nella cucina della sua casa priva di vita. È successo a Tresigallo nella mattina appunto di lunedì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Copparo, il medico legale e il nucleo investigativo per le indagini relative al decesso. Ora l'economia. La Camera di Commercio di Ferrara dice 135 imprese in più tra aprile e giugno. Dopo due anni di covid resta debole comunque la dinamica delle nuove iscrizioni mentre le cancellazioni si avviano lentamente verso una normalizzazione. Le nostre analisi sfatano con nell'evidenza dei numeri diversi luoghi comuni sulle governance familiari delle imprese che quando accompagnata da un'adeguata proiezione strategica e manageriale rappresenta un modello di indubbio successo. Ha sottolineato Paolo Govoni, il presidente appunto della Camera di Commercio di Ferrara. Tra iscrizioni e cessazioni il bilancio delle imprese ferraresi sembra avviarsi verso una normalizzazione. Dopo il forte rimbalzo post pandemia del 2021 nel secondo trimestre di quest'anno il saldo tra aperture e chiusure si è attestato a 135 imprese come risultato della differenza tra 398 iscrizioni, il secondo peggior risultato del decennio, e 263 cessazioni in progressiva ripresa dopo la frenata del 2020 e la piccola ripresa nel 2021. E' quanto emerge in sintesi dall'analisi trimestrale move imprese relativa al periodo aprile-giugno 2022 condotta dall'Osservatorio dell'Economia della Camera di Commercio di Ferrara sui dati infocamere del registro delle imprese. Non crescono le iscrizioni, rimanendo ad un livello inferiore alla media registrata dal 2012, testimoniando un clima di fiducia peggiorato rispetto allo stesso trimestre 2021, se è vero che un punto di fiducia in più o in meno influenza la nascita di un'impresa su due. Il ritorno ad una dinamica delle aperture più in linea con il periodo pre-pandemia risulta più marcato solo per alcune forme giuridiche assunte dalle nuove imprese. In particolare tra aprile e giugno l'anagrafe della Camera di Commercio di Ferrara ha fatto registrare un numero di aperture di società di capitale di poco inferiore al dato rilevato nello stesso periodo del 2019, 101 contro 109 unità. Restano sotto la media degli ultimi anni le cancellazioni che tra aprile e giugno si sono attestate a 263. Il bilancio tra aperture e chiusure da sempre positivo nel secondo trimestre risulta quest'anno invece inferiore per 24 unità rispetto allo stesso periodo del 2021. In termini percentuali, lo stock complessivo delle imprese ferraresi al netto delle cancellazioni d'ufficio è cresciuto però dello 0,39, qualche decimale in meno rispetto al ritmo del 2021 che registrava un più 0,46% portando il totale delle imprese registrate nella provincia estense al 30 giugno di quest'anno a 33.395 realtà imprenditoriali. Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale del capitalismo familiare ferrarese come dimostra l'esperienza degli ultimi 25 anni, ha sottolineato il commissario straordinario della Camera di Commercio Paolo Govoni. Le nostre analisi sfatano con l'evidenza dei numeri diversi luoghi comuni sulle governance familiari delle imprese che quando accompagnate da un'adeguata proiezione strategica e manageriale rappresenta un modello di indubbio successo, ha concluso il numero uno dell'ente di Largo Castello. Ancora Cronac ha acquistato il ricambio del motore della sua auto ma è rimasta vittima di una truffa. La vittima è una donna ferrarese che aveva individuato un annuncio in un sito internet Ecomotori trovando in vendita il pezzo di ricambio che cercava e ha contattato tramite un messaggio whatsapp il presunto venditore concordando il prezzo a circa 1300 euro. Dopo il versamento per il pagamento tramite bonifico bancario la donna però non ha mai ricevuto la merce, non solo il profilo utilizzato per pubblicizzare la vendita e l'utenza telefonica fornita in fase di contrattazione erano stati disattivati. È quindi scattata la denuncia alla polizia postale di Ferrara che al termine delle indagini è riuscita ad individuare l'autore della truffa, un uomo residente in un'altra regione, e denunciarlo alla competente autorità giudiziaria. Ora lo sport, o meglio la SPAL, i primi bilanci del direttore dell'area tecnica Fabio Lupo intervistato da Alessandro Sovrani. Sentiamo. Direttore, il ritiro si è concluso con la Carmonese che ha battuto 2-0 la SPAL, gara decisa dalle reti al terza della ripresa di Valeri, al 45esimo sempre del secondo tempo di Baez su rigore, però abbiamo visto una squadra che ha tenuto testa a una formazione di categoria superiore nonostante le tantissime assenze. Sì, sì, ma io sono molto soddisfatto dell'atteggiamento, veniamo comunque da 20 giorni di lavoro importante, tanto è vero che ci sarà anche qualche defezione così precauzionale, sono molto soddisfatto dell'atteggiamento sia morale sia tattico della squadra, dispiace il secondo gol, il 2-0, potevamo tra altre cose anche pareggiare, abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo stati all'altezza dell'avversario che ripeto comunque è un avversario di Serie Possiamo essere sinceri, non ci aspettavamo che la SPAL a questo punto si fosse già ritrovata con la rosa quasi al completo e con anche, lo diciamo noi, ma ne siamo convinti, un buon salto di qualità. Noi abbiamo lavorato per cercare di migliorare l'organico, abbiamo un pochino anticipato i tempi rispetto al mercato ma proprio perché non volevamo ritrovarci poi in una situazione di un pass e stare poi all'asta negli ultimi 10-15 giorni, quindi siamo andati ad intervenire dove ritenevamo fosse importante farlo e così adesso abbiamo 40 giorni di mercato durante il quale valuteremo la situazione, però siamo già soddisfatti perché se domani mattina dovessimo iniziare a giocare avremmo comunque un organico di buon livello. Murgia, Esposito di Francesco, sono i tre uomini in mercato, quali sono le situazioni allo stato attuale delle cose? Chi può rimanere, chi probabilmente se ne andrà? No, in questo momento qui Murgia secondo me viene da un paio di annate non straordinarie dal punto di vista del rendimento, però si è messo in discussione, stava facendo molto bene, anche durante il ritiro ho lavorato molto molto bene per recuperare la condizione e tornare a essere quello che tutti si aspettavano qualche anno fa, quindi siamo soddisfatti e verificheremo poi le varie situazioni anche di mercato che riguardano lui, ma in questo momento qui lui è un giocatore della Spal, così come lo è Esposito, che si è approcciato questa fase di tiro molto molto positivamente, con grande voglia di dimostrare, lui sa che se arriva alla situazione giusta per lui e anche per noi la valuteremo, altrimenti lui sarà un giocatore della Spal e anche un giocatore importante perché ha la possibilità comunque di giocarsi e dimostrare che meritava la Serie A nel caso in cui dovesse rimanere. Il caso di Di Francesco è un caso un pochino più particolare perché è un giocatore che ha meritato, avrebbe meritato di rimanere in Serie A e in questo momento qui c'è un po' di mercato intorno a lui, non è ancora esploso, noi ci siamo messi comunque nelle condizioni di non dover necessariamente venderlo o svenderlo. Se ci sarà l'occasione buona anche per lui la valuteremo insieme al ragazzo, però non ci facciamo prendere per la gola da nessuno. Cosa mancherebbe ancora per completare l'organico se potesse esprimere un desiderio, probabilmente lo stesso che ha espresso Mr. Venturato, lo facesse invece lupo? No, io sono soddisfatto di quello che abbiamo, non cerco nulla, soprattutto se il mercato in uscita dovesse determinare qualcosa, allora cercheremo di farci trovare pronti per integrare l'organico, altrimenti io sono già soddisfatto della squadra che è stata costruita. Bene, chiudiamo qua il nostro TV giornale, vi ricordo naturalmente alle 20.15 subito dopo il TV giornale la puntata di Bonifica Oggi dedicata a storie di pianura, i premi a Palazzo Naselli, Crispi a Ferrara e poi alle 22 ritorna l'appuntamento con il processo al Gran Premio condotto da Veronique Blasi con i commenti dei suoi ospiti inerenti tutto naturalmente sull'ultimo Gran Premio di Francia. Vediamo qua il nostro TV giornale, vi ricordo naturalmente il nostro sito internet, la pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.